Grazie per questo invito, è la prima volta per me in questo sito, un po' mi dovrei vergognare, però sono contenta di questa occasione, sono contenta e ringrazio il professor Battiston, lui è stato un po' l'artefice, siamo conosciuti quando abbiamo fatto i seminari del lettore, lui ha fatto questo seminario incredibile su fantascienza e scienza, una roba che ancora mi ricordo con emozione e da lì poi è nato un po' il discorso di collegarci un pochino di più e collegarci un po' meglio e lo stiamo facendo, lo stiamo facendo convinti, qua sono presenti diversi dei nostri studenti che sono in gita, senza panino però abbiamo detto, che sono in gita qui, sono molto contenti, ricerca in questa struttura e come ha detto prima il Presidente D'Amico, il fatto che esista un'università, permettetemi di dire, con delle realtà di fisica, di ingegneria, di chimica brillanti e di eccellenza, permette anche che i nostri ragazzi, i nostri dottori di ricerca, i nostri ricercatori, possano completare il gruppo e far nascere, per cui non è semplicemente una costruzione importante nell'ambito di tutte le cose che abbiamo detto, ma c'è proprio una linfa vitale che viene sostenuta dall'Università degli Studi di Caglie e questo mi rende molto orgogliosa e mi rende anche sempre più convinta del fatto che ricerca, cultura, conoscenza sono la base dello sviluppo. Io dico anche un'altra cosa che mi è venuta in mente, poi so che in realtà è stata già affrontata dai sindaci del territorio e dal direttore del centro, che è quello di pensare a qualcosa di divulgativo, scusate se io un po' scoccio sotto questo aspetto, però avere una ricaduta sul territorio che possa essere anche più vicino ad una realtà dei comuni che ci sono intorno, perché questo è un sito che, pensato in un certo modo, può essere non solo turismo scientifico, ma può essere anche una realtà di una parte di un museo della scienza interattivo che ha a che fare con alcune componenti dove l'Ateneo può dare il suo contributo, credo anche l'Asi possa sostenere un progetto del genere e sono sicura che l'assessore non potrà dire di no, poi mi dirà mi chiedi sempre delle cose quando ci sei tu, però mi sembra un momento importante per condividere, poi lo sappiamo, non sono cose semplici da realizzare, ci vuole tempo, ci vuole costanza, però può essere un inizio se siamo tutti convinti della bontà dell'idea, ulteriormente poi non posso non dire che il fatto che nel futuro non si ricevano solo segnali, ma si possano anche trasmettere, è qualcosa che sarebbe veramente incredibile e bellissimo per lo sviluppo di una realtà di questo genere nella nostra regione e per il contributo alla conoscenza nel campo dell'aerospazio che la Sardegna, San Basilio e i comuni che sono intorno a San Basilio possono essere orgogliosi a quel punto di dare. Per cui grazie per avermi invitato, grazie per questa occasione ed è semplicemente l'inizio di un qualcosa che deve e può ancora crescere sia nel campo della scienza ma anche nel campo della ricaduta sul territorio. Grazie.